per la terza batteria stanno per scendere in acqua, Anna Busi in corsia 1 Giulia Cappelletto alla 2 Giorgia De Mas Michelotto in 3 Martina Menotti in 4 Frederic Mertis in 5 Cecilia Echiaier in 6 Sirian Arduzzi in 7 In acqua con le teste di serie con Martina Biasioli in corsia 4 Osilaura Vicuna accreditata nel terzo miglior tempo di iscrizione atleta già medagliata ai criteri a diriccione ha vinto i titoli nei 100 d'orso e 50 d'orso e ancora seconda nei 200 medagliata anche in Vasca Lunga nei 50 e categoria di Roma chiude in 103 e 47 quindi mette un primo riferimento in vista delle due batterie rimanenti grazie a tutti grazie a tutti